È il mio secondo selfie per mio fratello e penso di aver indovinato tutto questa volta perché avevo previsto che la Juve sarebbe stata attendista, che il Bologna sarebbe stata una squadra molto ostica, nonostante tutto sta di fatto che questi 7-8 giocatori che si sarebbero messi dietro alla palla ci avrebbero creato dei problemi. È importantissimo aver vinto, anche se un risultato striminzito di 1-0, però abbiamo messo uno zampone sul terzo scudetto della mia Juventus. Forza Juve! Sto aspettando la partita della Fiorentina contro la Roma, spero senza gufare perché a me la Roma anche piace, nonostante che giochino una partita alla settimana hanno un bel calcio. Un allenatore francese che gioca all'italiana, nel senso che gioca all'italiana, non che faccia catenaccio, però una squadra risvegliata che fa un calcio che piace a me. C'è questo giocatore di cui io parlo sempre, che è Gervino, che ha dato una linfa nuova, una velocità. C'è un giocatore veloce, rapido e rapace. Questo è il calcio. Il calcio in Italia è molto difficile, anche se dicono che non abbiamo un calcio bellissimo. Però per me abbiamo un calcio difficile, un calcio più bello del mondo. Ve lo dico io. Non perché la Juve vince il campionato a man bassa, perché le altre sono deboli. No, le altre sono forti. Siamo noi superlativi. Forza Juve. Alla prossima, sempre su questo canale. Mi viene da ridere. C'ho una cosa da dire che non voglio dire. Non ve la dico.